Andrò a firmare perché la lista Tsipras possa partecipare alla prossima campagna elettorale e invito tutti a farlo perché secondo me la pluralità, la polifonia delle voci è il sale della democrazia. Quindi mi auguro che questa lista che ha tanti autorevoli nomi con sé possa partecipare alla campagna elettorale e alla fine di questa campagna elettorale io come tutti deciderò per chi votare.